Benvenuti a Scientificamente, il Tg dello spazio e della scienza. Tanti auguri all'Agenzia Spaziale Europea. Lo spazio non si esplora in solitudine e grazie all'intensa e continua collaborazione fra paesi diversi che si è arrivati a un livello di scoperta e avanzamento tecnologico mai raggiunto prima. È successo grazie all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che quest'anno festeggia mezzo secolo di vita. Cooperazione, expertise, evoluzione e innovazione sono i quattro assi su cui poggia la cooperazione europea in ambito spaziale, li ricorda il direttore generale dell'ESA Jean-Jacques Dordain, aprendo le celebrazioni per i 50 anni nel centro ESRIN di Frascati. Lo spazio è il nostro futuro, nessuna scusa, si va avanti. Un messaggio è arrivato anche da Samantha Cristoforetti, che pochi giorni prima di partire per la Stazione Spaziale Internazionale aveva registrato il suo augurio. A presentarlo Luca Parmitano, primo italiano a passeggiare fra le stelle. Parmitano ha non solo sottolineato l'importanza della cooperazione, ma ha ricordato anche che tutto, sogni compresi, parte dall'ispirazione. Per questo è importante raccontare la grande avventura dello spazio. Made in space, stampato il primo oggetto 3D nello spazio. È una placchetta con la scritta Made in space NASA, il primo oggetto creato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale grazie a una stampante 3D. La realizzazione della stampa è stata possibile grazie al coordinamento con gli ingegneri a terra che seguivano le operazioni degli astronauti aiutandoli a calibrare l'innovativa stampante. Le prime osservazioni sono legate agli effetti della microgravità che per esempio ha reso difficile staccare l'oggetto dalla parte più vicina alla stampante. L'oggetto, vero prototipo della stampa spaziale del futuro, tornerà sulla Terra nel 2015 per essere studiato nei minimi dettagli e per individuare quali sono le differenze se ci sono con gli oggetti stampati sul nostro pianeta. È pronto DREAMS, lo strumento che svelerà il meteo di Marte. È nato in Italia lo strumento che indagherà l'atmosfera di Marte per capirne i segreti, dai venti alla radiazione solare, dall'umidità alla temperatura, dalla pressione ai campi elettrici in prossimità della superficie del pianeta rosso. Si chiama DREAMS e fa parte dell'attesissima missione ExoMars, il cui avvio è previsto per il 2016. La realizzazione di questo strumento è stata coordinata dall'Agenzia Spaziale Italiana. Scientificamente DREAMS dovrà aiutare i ricercatori a decifrare l'ambiente marziano, fornendone una caratterizzazione durante la stagione delle tempeste di polvere. Per la prima volta si potrà verificare l'eventuale creazione di campi elettrici atmosferici che potrebbero mettere in pericolo la strumentazione e anche una futura missione umana. Un radar laser per prevedere le eruzioni dei vulcani. Le eruzioni dei vulcani sono precedute dall'aumento di biossido di carbonio nei fumi che escono dal cratere. La sfida scientifica imminente è riuscire a misurare questo gas per capire quando il vulcano erutterà. È stata l'Enea a mettere a punto un prezioso strumento che andrà in aiuto di tutti i vulcanologi e permetterà di preallertare la popolazione civile in caso di pericolo. Si tratta di un radar laser o LIDAR basato su una tecnologia molto sofisticata che permette per la prima volta di misurare la concentrazione di CO2 nei gas vulcanici, un'operazione che con altre tecniche è rara, lenta, pericolosa e complessa anche per le difficoltà della distanza. Lo strumento si chiama BILLY, acronimo di Bridge Volcanic Leader, ed è in grado di misurare fino ad un chilometro di distanza. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Lo stupore ha conquistato tutti. Da Samantha Cristoforetti, partita per la Stazione Spaziale Internazionale nella notte di domenica 23, ai milioni di astrofili che hanno seguito il suo viaggio a bordo della Soyuz con il fiato sospeso, tutti con gli occhi fissi sui monitor e il cuore tra Baikonur e il cielo. L'attacco della navetta russa alla stazione è stato perfetto ed è stata proprio Samantha ad entrare per prima. L'intensità del momento ce la racconta la foto che la mostra sorridente mentre abbraccia il collega astronauta nella nuova casa che la ospiterà per i prossimi sei mesi. È iniziata così la missione futura, la seconda di lunga durata per l'Italia dopo volare di Luca Parmitano. È lui, insieme agli altri due astronauti italiani ancora attivi, Paolo Nespoli e Roberto Vittori, a raccontare il lancio di Samantha dalla sede dell'Agenzia Spaziale Italiana di fronte a migliaia di persone e al ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Parmitano conosce bene quelle emozioni uniche che attraversano l'animo di un astronauta quando si ritrova a guardare la Terra da una prospettiva tutta nuova, emozioni personali e intime. È un'esperienza talmente unica, talmente personale, talmente intima che ognuno deve vivere in maniera diversa. Per quanto riguarda il lavoro, Samantha è una professionista preparatissima, determinata, straordinaria, quindi non ha bisogno di alcun consiglio tranne quello di essere se stessa e fare al meglio di quello che è capace di fare. In fondo l'emozione già traspare anche dalle sue prime impressioni comunicate al grande pubblico. Grazie al sito dedicato alla missione Avamposto42 e al suo profilo Twitter, Samantha Cristoforetti ci ha regalato la sensazione dei primi passi in assenza di gravità a 400 chilometri di distanza da Terra. Finora, ogni volta che ho guardato giù ho visto solo Ceni, ha scritto postando una foto mozzafiato scattata dalla cupola della stazione spaziale e ha raccontato con semplicità e curatezza le sue prime mosse da principiante del volo, ovviamente quello in assenza di gravità che la fa fluttuare nei moduli della stazione spaziale. Quando era ancora a bordo della Suiuz era stato un originale compagno di viaggio a segnalare l'ingresso in orbita. Il compito era stato affidato a Olof, un popazzo di neve che è stato usato per rilevare la condizione di microgravità. È infatti tradizione degli astronauti portare con loro dei pupazzi porta fortuna, che quando iniziano a galleggiare nella Suiuz segnalano che l'orbita è raggiunta. Un momento che è arrivato circa nove minuti dopo la partenza dal cosmodomo russo di Baikonur in Kazakistan. L'ingresso nella stazione è invece avvenuto alle 3.45. A seguirla da Terra, chi l'ha vista crescere professionalmente e chi ora guarda a Futura con la soddisfazione di chi sa che rappresenta un passo in più verso il progresso. Ovviamente sono emozionato, io ne ho selezionati due, Vittorio e Nespoli, ne ho conosciuti tanti altri, alcuni hanno anche portato esperimenti miei nello spazio, quindi sono molto legato al mondo degli astronauti, sono persone eccezionali, ma devo dire che questa volta è diverso perché lancio un astronauta che appartiene all'agenzia e proprio come presidente dell'agenzia, oltre al fatto che essendo lei trentina e io sono io trentino c'è un legame anche più forte ancora. Ad augurarle un buon viaggio c'erano anche i ragazzi del WeFly Team, la pattuglia di piloti disabili che ha fatto dell'amore per il volo la sua bandiera. Per noi è un onore, un onore essere qui stasera ad assistere insieme a astronauti che già hanno provato questa emozione alla partenza di Samantha e con lei parte un pezzo di noi perché parte la nostra bandiera che lei porterà tra le stelle, quindi WeFly più in alto di così non poteva andare e con Samantha, io auguro Samantha un in bocca al lupo e un door to fly, come il nostro motto dice, futuro come WeFly, osa volare. Samantha Cristoforetti, lo ricordiamo, resterà a bordo della stazione spaziale internazionale fino a maggio 2015. È il settimo astronauta tricolore e la prima donna italiana a volare nello spazio. L'aspettano mesi intensi, forse ancora di più di quello che ha sempre immaginato. È vero che questa è un'esperienza straordinaria, è tutto quello che ha sognato e secondo me sarà ancora di più di quello che si può sognare quando poi riesce a realizzarlo. Grazie a tutti.